Come finisce Mina Settembre? Andiamo a vedere cosa è accaduto nell'ultima puntata della seconda stagione. Domenico convince la madre di Viola a ritirare la denuncia. La donna infatti aveva denunciato Mina Settembre poiché lei aveva violato il suo diritto a rimanere anonima. Anni prima la donna aveva partorito in anonimato. Dopo aver ritirato la denuncia nonostante l'assistente sociale abbia violato i suoi diritti Mina viene reintegrata. Irene insieme a Rosaria e a tutte le persone che Mina ha aiutato nel corso del tempo si presenta dalla donna che nella puntata precedente ha dato a Mina l'incarico di occuparsi di Viola. Vuole che appunto ritiri la sospensione e così avviene. L'avvocatessa continua a frequentare il collega ma non vuole niente di serio, non è pronta. Domenico e Giulia si lasciano in quanto l'uomo prende consapevolezza di essere ancora innamorato di Mina. Riprendono quindi a frequentarsi. Nella vita di Domenico torna la sorella. Ha deciso di trasferirsi a Napoli per andare a convivere con quello che era il suo ex fidanzato e che ora non è più ex. È innamorata di Carmine, questo è il nome dell'uomo che è interpretato da Fabio Fulco, da sempre e a soli 16 anni era andata a convivere con lui. Non voleva vedere all'epoca che il fidanzato era coinvolto in delle truffe e un giorno venne arrestato dalla polizia. Successivamente lei si trasferì a Barcellona. Ora Carmine ha rilevato insieme ad un socio una casa discografica per produrre le canzoni della sorella di Domenico, ma il soso è un delinquente. Titti si sposa e sia Mina che Irene le fanno da testimoni. Olga rivela a Mina di essersi innamorata di un uomo molto più giovane e di essere andata a convivere con lui, per questo si sarebbe inventata di essere partita per una crociera. La figlia però capisce che qualcosa non quadra e allora segue Nunzia, la domestica di Olga. La segue fino a una clinica privata. Olga è gravemente malata. Negli ultimi minuti dell'ultima puntata Viola va a casa di Mina e le chiede di adottarla. La protagonista è commossa e anche se non lo dice esplicitamente si capisce che la sua intenzione è quella di accettare. Questo però non è verosimile visto che nel nostro paese una persona non sposata non può adottare ma può prendere solo in affidamento un minore. O Mina la prende in affidamento o Viola è destinata a rimanere alla casa famiglia visto che per lo stato italiano è meglio che un adolescente rimanga là piuttosto che avere un solo genitore.